Lo Scorpione è l'una finalmente nel vostro segno, splendida per i rapporti sentimentali, splendida perché vi rende anche un po' più sicuri di voi stessi, vi toglie dalla testa certi dubbi che vi erano venuti nei giorni scorsi anche e soprattutto nei confronti del partner, insomma una giornata bella e una serata che si pronuncia anche molto passionale.